Le tombole è il nostro asso nella manica, durante l'inverno tanta gente che al sabato e alla domenica si piace giocare a tombola e noi praticamente da anni oramai siamo noti per questo. E la solidarietà è il nostro obiettivo, noi durante il periodo invernale facciamo due o tre iniziative di solidarietà. La prossima, ovvero martedì 8 dicembre alle ore 15.30 alle 19.30 ci sarà la tombola per Federico. È un'iniziativa che abbiamo trovato tanti sponsor e che ci danno dei premi gratis naturalmente perché l'incasso di tutta la serata andrà per Federico, perciò è un appello a tutti i cittadini fianesi che conoscono la storia purtroppo di Federico di partecipare dalle 15.30 alle 19.30 di portare qualche euro per Federico e questo è un obiettivo che noi ci teniamo moltissimo perché col papà abbiamo una collaborazione totale su quello che succede nell'iniziativa nella città per Federico. Questa come tre ponti abbiamo pensato a dedicare il giorno 8 dicembre dalle 15.30 alle 19.30.